Buongiorno a tutti, io vorrei iniziare dalla fine della poesia a Silvia per due motivi, primo in omaggio al professore filosofo che viene rapito da Giovanna Melandri che lo sta concumendo intellettualmente e il secondo, primo in omaggio a lui perché è uno dei pochi da cui si impara molto secondo me su temi tecnologici e sembra un paradosso ma non lo è e secondo perché essendo io un poeta preferisco partire dalla poesia e Silvia alla fine dice questo è il mondo, questi diletti, l'amor, l'opera, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme questa è la sorte delle umane genti, all'apparire del vero, che poi è la morte, tu misera cadesti e certo lo sto leggendo e con la mano la fredda morte in una tomba ignuda mostravi di lontano leggere non è un male, io non sono un attore, sono uno scrittore ma non un attore bene, cosa ci insegna Leopardi? Ci insegna che la vita ha sempre, purtroppo, per fortuna, la meglio anche sulla speranza e questo è il pessimismo di Leopardi perché lui ha una speranza di una vita insieme, di un amore, di una frequentazione, di una gioia ma l'apparire del vero distrugge purtroppo anche la speranza. Dall'altra parte io ritengo che senza una visione come ha detto prima il professore di speranza, quindi una visione di futuro, non cresce l'umanità e addirittura questo vero che distrugge poi è la supremazia persino sulla nostra capacità di influenzare il futuro. Allora avevo un video che volevo far vedere, che ho mandato circa un'oretta e mezzo fa sperando che potessero dialogare questi cellulari con il coso, che fa vedere una cosa semplice, se riusciamo a farlo prima della fine dello speech lo vediamo, sì sì, una cosa semplice e c'è che oggi il vero legato a droni, intelligenza artificiale, capacità di acquisizione ai dati e riconoscimento facciale, sono dei droni, piccolini così, che possono riconoscere la persona da uccidere, partono anche a migliaia e possono andare in maniera selettiva a uccidere le persone, oggi non in futuro, questo è il vero. Quando si parla di all'apparire del vero tu misera cadesti, ma lo sto leggendo, bene, è che questa è oggi big data, intelligenza artificiale, acquisizione di dati massivi e riconoscimento facciale, non è tutto il resto, cioè l'aiutare i disabbi e roba del genere, perché in questi casi d'uso, in questo momento non sono ancora sviluppati. Allora un po' di anni fa ho scritto sul blog che ho su Panorama, big data o big sola, big sola non è un'espressione inglese ma è un'espressione romana, perché di big data, prima si chiamavano data warehouse, business intelligence, CRM analitico, ci sono stati vari nomi che si sono alternati nel tempo dai consulenti e da coloro che si occupavano di ICT per descrivere che cosa? L'acquisizione massiva di dati, la capacità di elaborare degli algoritmi e la capacità di utilizzarli per dei fini. Questa è in estrema sintesi la stessa roba da qui circa 15 anni, solo che la capacità elaborativa è aumentata e la velocità dei processori è aumentata, oggi si fanno cose che prima non si potevano fare ma concettualmente al netto di qualche variazione di algoritmi, ma che i matematici insegnano, non gli uomini di azienda, nemmeno gli statistici, che se qualche statistico si potrebbe arrabbiare e al netto di tutto ciò non è cambiato nulla negli ultimi 15 anni, ma si sono spesi tanti soldi su questa roba, arricchendo molti società di software e di hardware, ma concretamente grossi benefici l'umanità non li ha avuti. Allora ritorna il tema del crearsi un modello di società che il professore ha accennato, senza un modello di società non so nemmeno in che in direzione utilizzare le tecnologie. La tecnologia è uno strumento, come ha detto, ed è anche abbastanza facile accederci oggi. Vi faccio degli esempi di casi d'uso, perché dovremmo parlare di come utilizziamo i dati per l'azienda. Casi d'uso concreti. Allora, noi abbiamo dati relativi alle macchine. Oggi noi cambiamo la manutenzione delle macchine perché live abbiamo milioni di dati da queste macchine che ci dicono se quella singola macchina era sottoposta a manutenzione o no. Questo ci comporta il risparmio di tanti milioni di euro e soprattutto ci consente di intervenire prima nella manutenzione di una macchina che si sta per rompere, perché è un algoritmo predittivo che mi dice che si sta per rompere. Vi faccio un altro esempio di reale caso d'uso che in realtà non era scontato. In Israele utilizzano dei sensori, dei microfoni, ultrasuoni e infrasuoni che consentono di capire se c'è qualche terrorista che sta scavando dei tunnel e sta entrando in Israele. Sensori a infrasuoni e ultrasuoni. Qualunque modello, uno mi potrebbe dire ma che c'entra questo con l'energia? Ecco c'entra con l'Enel. Ecco non c'entrava niente e tutti gli esperti al mondo di intelligenza artificiale e di big data stavano cercando di capire come fare dei modelli predittivi della rottura di una turbina idroelettrica. E tutti i modelli che utilizzavano, con studi fatti nelle principali università del mondo, non servivano a niente perché non avevano predetto alcuna failure. Noi abbiamo preso i microfoni fatti dagli israeliani per prevenire l'attacco terroristico tramite scavi sotterranei con un paio di start up che abbiamo trovato in Israele, abbiamo applicato questi microfoni alle turbine di generazione idroelettrica, abbiamo capito che ci sono degli algoritmi che possono predire la failure della turbina basati su suoni, infrasuoni e ultrasuoni, ma l'abbiamo fatto per un errore. Perché avevamo combinato un appuntamento con delle persone che si occupavano di big data e sono venute le persone sbagliate, cioè quelli che si occupavano di algoritmi predittivi del failure delle turbine di generazione idroelettrica. Allora nessun software di intelligenza artificiale può purtroppo essere in grado ancora di combinare cose che non sono inserite nel modello. La grandezza del cervello umano è che sbaglia, quindi il valore futuro nella creazione di nuovi posti di lavoro non starà secondo me nell'intelligenza artificiale ma nella umana capacità di sbagliare. Cioè noi dovremmo una società in cui formeremo le persone che gestiscono l'algoritmo di intelligenza artificiale, gestiscono i robot che aiutano e si basano su intelligenza artificiale e faranno tutte le cose che sono prevedibili, gestibili e già previste, inseribili nel modello. Per cui il robot farà tutto quello che è razionale. Gli ultimi 200 anni abbiamo avuto una società che ha esaltato dall'illuminismo un po' la razionalità, che è banale, perché può essere riprodotta da un computer, seppur con i limiti che ci ha spiegato Cingolani di capacità elaborative, però i computer faranno bene quello che noi abbiamo esaltato negli ultimi 200 anni, c'è la razionalità, il pensiero lineare, deduttivo e induttivo. L'errore, la capacità come diceva Steve Jobs di accostare matrici culturali diverse, tutti completamente strani, lui raccontava che aveva imparato dal corso di calligrafia, non dal corso di ICT. Allora la capacità di accostare matrici culturali estremamente diverse, che è la creatività così come definita da Arthur Köstle. La capacità di sbagliare, di commettere errori e di sognare sono capacità che i computer non hanno, perché non hanno capacità di sognare, non hanno capacità di amare, non hanno capacità di desiderare. Prima il professore ha citato, grazie, lo vediamo dopo così ancora meglio, grazie. Prima ha citato speranza, desiderio e quella che io definisco fiducia. Speranza, fiducia e desiderio noi li chiamiamo sogno, perché la speranza, la fiducia e il desiderio, quelle tre categorie concettuali che il professore ha citato, per noi sono rappresentate da un sogno. I computer, i robot, l'intelligenza artificiale non può simulare sogni. E il mondo è sempre cambiato nella capacità di realizzare sogni. Ora, metà del mondo, probabilmente nei prossimi anni, sarà dedicata a infrastrutture informatiche, a robot che sono in grado di fare quello che negli ultimi 200 anni per noi era vitale. Cioè, il trading, noi lo stiamo facendo con i robot, non più con le persone. Le persone controllano i robot, ma i robot sono in grado di analizzare molte più robe, molte più informazioni con più velocità e con più razionalità e senza un interesse di parte rispetto alle nostre persone che sono bravissime e fanno trading. La stima della rottura o meno di una macchina la facciamo con delle routine gestite da robot con intelligenza artificiale e la facevamo prima a naso con le nostre persone. Tutto ciò che è razionale lo si farà con qualcuno che gestirà la parte razionale, che sarà sempre più commodity. Tutto ciò che è desiderio e quindi sogno è capacità di… voi immaginate un mondo regolato da quello che è prevedibile, in cui ci saranno meno errori. Le macchine, le automobili, secondo me, saranno gestite dai computer, saranno autonome in senso più ampio. Ma la capacità di pensare fuori da quelle regole e di definire il next, what's next, come riprogrammo quelle macchine per un mondo migliore dipende da due cose. Se ho una visione del mondo migliore, e quindi i sogni, e se ho la capacità di pensare fuori da quelle regole. Per cui dovremo sempre più esaltare la capacità di essere diversi e di essere al di là delle regole, contro le regole. Le nostre aziende sono programmate per assumere persone razionali che si uniformano alle regole e che stanno nel contesto. Queste diventeranno sempre più inutili. Noi abbiamo bisogno di persone che vanno oltre il contesto, che disubbidiscono e che sono quelli che, tradizionalmente definiti i sognatori, hanno fatto progredire l'umanità. Cosa possiamo fare concretamente in azienda? Definire il sogno dell'azienda. Perché come il professore ha detto ci vuole un progetto di società, ci vuole anche un progetto di azienda. Qual è il mantra della vostra azienda? E chi dovrebbe diffonderlo? Per noi ci vuole un chief evangelist officer che dentro l'azienda e fuori dall'azienda defini, con il top manager, definisca e condivida il mantra dell'azienda. Qual è il mantra che c'è all'Enel? È il sustainable development goal numero 7. Elettrificare in maniera sostenibile tutta l'umanità. Oggi ci sono 3 miliardi di persone senza accesso all'energia. Noi pensiamo che noi dobbiamo portare energia sostenibile a tutto il mondo. Sostenibile vuol dire nel rispetto anche dell'ambiente, soprattutto dell'ambiente, ma sostenibile anche sul piano economico. Piero Paolo Pasolini distingueva nettamente il progresso tecnologico dallo sviluppo. Progresso tecnologico, gli indicatori di sviluppo economico da una parte, si fanno più soldi, c'è più ricchezza, c'è più scolarizzazione, dallo sviluppo più ampio che è economico, è sociale, è ambientale ed è culturale. Per noi questo è il secondo target di obiettivi che ci diamo. Difatti abbiamo unito l'innovazione e la sostenibilità in quello che ci siamo inventati come nuovo termine che si chiama innovability. Perché se non sei innovativo chiudi, quindi non sei sostenibile. Ma per essere innovativo hai bisogno del concorso di quelli che stanno fuori. Quindi altro caso d'uso, noi utilizziamo l'intelligenza artificiale per trovare le start-up con cui lavorare. Ne sondiamo migliaia all'anno. Lo facciamo con algoritmi di intelligenza artificiale che lavorano su database. Utilizziamo l'intelligenza artificiale per trovare i patent con cui lavorare. Abbiamo un database di 50 milioni di patent e andiamo a cercare i patent, i brevetti da utilizzare con l'intelligenza artificiale. Abbiamo un database delle aziende, di cosa stanno facendo le aziende per registrare quei patent. E quali paper, in quali paper, 40 milioni di paper studiamo per capire con quali aziende fare alleanze. Non lo facciamo perché mi sta simpatica Barbara la riva dice famo un'alleanza, dimmo famo vedemo come si dice a Roma. No. 40 milioni di paper universitari che mi consentono di dire il mondo va di là, io cerco. Questo è la gestione della continuità, la gestione della razionalità per migliorare il governance della nostra innovation. Non il contenuto specifico. E qui ritorno a quello che prima citava il professor. Io adesso vi lascerei, mi ero segnato degli appunti prima proprio perché ho completamente rifatto lo speech, ho chiuso perché ci tengo a stare nei tempi, dicendo cosa? Che alla fine... Ecco, guardiamoci questo... Scusa, prima del video. Noi abbiamo la capacità di distinguerci da robot, televisione artificiale e resto grazie a sogni e desideri. Dobbiamo alimentare la capacità di sognare in un mondo che negli ultimi duecento anni ci ha spinto a essere standard. Noi dobbiamo essere il contrario dello standard. C'è un bellissimo libro che è La democrazia in America di Alexis de Tocqueville che dice che l'omologazione del desiderio è il più grande crimine che una democrazia può commettere. Lui elogia la democrazia in America, ma ricorda anche che se ci omologhiamo nel desiderio di consumo o qualunque altro desiderio noi rischiamo di essere tutti uguali, mentre la grandezza del modello di società che creeremo a mio avviso è correlata con la grandezza della diversità che nutriremo. Cosa non hanno i robot, la differenza dell'uomo? La libertà. Non possono decidere una cosa che non è nel set di dati che riescono ad acquisire e non possono decidere al di là delle regole che gli vengono imposte dal loro creatore che è l'uomo. Noi invece abbiamo il segno della divinità dell'uomo nell'essere liberi di andare al di là di quello che il creatore ci ha chiesto. E questa è la grande differenza che permarrerà finché saremo umani. Grazie e vi lascio con questo video che ci fa riflettere sulla grande differenza tra la realtà di cos'è oggi Big Data, Artificial Intelligence e il riconoscimento facciale e droni e quello che si racconta nei convegni, che è la prima parte della Silvia. Grazie. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. And just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is three grams of shaped explosion. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. That is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A 25 million dollar order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy. It's virtually risk-free. Just characterizing him. Release the swarm and arrest him. Now, this is a presentation. Now, this is a presentation. This is a presentation based on a technology. Vena. These exist, they are. The site decides to shoot. And this is the reason why, between the several applications, and I'm coming to the artificial intelligence, the big data, we have def brincades in other drones for our centralis. Le stiamo installando ovunque perché due tipi di difese, la prima va a hackerare il drone che ci attacca, la seconda va a abbattere sparandogli un drone che non riusciamo ad hackerare. Purtroppo è molto facile oggi se si vuole attaccare il Papa in piazza San Pietro con un drone che si compra in un supermercato e con la dose minima di esplosivo per ucciderlo. Noi lo stiamo ribadendo alle autorità, un paio di mesi fa un drone si è fatto un giro su San Pietro, questa è vera, non vi sto dicendo uno scherzo, siccome io porto i figli a scuola via della conciliazione, un tipo che stava lì mi ha detto lei che è responsabile dell'innovazione, che facciamo? Io gli ho detto perché muochi da me? Dico sicuramente non sparate lì perché se è armato facciamo un casino, però non è che devo essere io, questa è la realtà, quindi nei conveni noi parliamo di un mondo bello, ma questa è quella che Leopardi farebbe, tu misera cadesti quando hai visto la verità, ma in realtà l'apparire del vero tu misera cadesti, questo è il vero, grazie. Grazie